via ok su 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 veloci eh ragazzi pieghiamo sempre la gamba sotto eh dai Gabri via piego e spingo ok bene eh piego la gamba sotto e mi rialzo dai su veloci torniamo a posto giù via dai forza su dai già state facendo un pelino di strada in più eh bisogna spingere ragazzi eh il segreto è tutto lì via bravo Samu bravo a destra si spinge di più eh pieghiamo la gamba sotto piega la gamba sotto Gabri piega la gamba sotto ok ho quella sotto quella sopra davanti ok su così è giusto ok dai via ok pieghiamo sempre la gamba sotto facciamo bene la rialzata eh dai su in piedi Nicolò non l'hai fatta bene eh questa rialzata dai ancora una a destra ok via ok